Eccoci tornati in diretta, 23 minuti dopo le 17, questa è Radio Marte, la radio ufficiale. State ascoltando una particolare tavola rotonda. Napoli e il Napoli, un po' di amici, di imprenditori e giornalisti qui in studio. Abbiamo Maurizio Marinella, abbiamo Paolo Graziano, Gianni Fiorentino, Italo Cucci, Ivan Zazzaroni. Ringrazio sempre Dario Sanotaro e Gianluca Gifuni che stanno lavorando all'Acrementi, al di là del Vieto, insieme a Gigi Soriani. Al telefono da Los Angeles c'è collegato il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis. Presidente, ci deve una risposta. La devi a Cucci sul Minitez. Stavo spiegando che personalmente ho contattato dieci allenatori, parlandoci un po' anche più di una volta con qualcuno. Poi avevo praticamente fissato un appuntamento per un venerdì e lui era in partenza per gli Stati Uniti per fare una di quelle post campionato tournament con Villas Boas. Però avevo chiamato anche Benitez. Poi a un certo punto Benitez mi ha convinto di più come personaggio perché è anche Villas Boas, un buonissimo allenatore, che tra l'altro così avevamo incontrato in Champions e con il quale c'era un rapporto molto cordiale. Però Benitez è un lottatore abituato alle difficoltà e poi è abbastanza monogamo. Leggi la sua esperienza a Liverpool. Quindi l'ho considerato uno di noi. Mi sono messo in aereo, sono andato su con Bigon e con Chiavelli. Noi siamo stati con lui circa tre ore, sembrava che ci conoscessimo da sempre. Mi ha fatto mangiare un mare di patatine fritte e di cacahuette. Ci ha ricevuto nella casa del suo secondo, alla periferia di Londra. Ci siamo messi subito d'accordo, non c'è stata una lunga negoziazione. Ci sono stati pochissimi minuti dedicati a quello e molto dedicato a che cosa si vuole fare, a parlare di calcio. Presidente, avremmo nel corso di questa tavola rotonda anche degli interventi telefonici di altri personaggi, come, ad esempio, uno ce l'abbiamo già collegato, il responsabile sport del mattino, il collega Francesco De Luca. Ciao Francesco, buonasera. Buonasera, buonasera, un saluto al Presidente e agli altri ospiti del vostro forum. Francesco De Luca, che so, voleva dare il suo contributo alla tavola rotonda Napoli del Napoli, facendo una domanda a Maurizio Marinelle. È così, Francesco? Sì, certo. Anzitutto un augurio a Marinella perché da domenica Presidente del Circolo Nautico Posilipo, che è una delle grandi istituzioni dello sport non solo a Napoli ma in Italia. È un circolo che ha sempre dato grandi atleti alle nazionali che hanno partecipato alle Olimpiadi. Il tema del dibattito, secondo me, è interessante perché si parte ovviamente dalla esperienza che ha maturato in questi nove anni il Presidente De Laurentiis alla guida del Napoli e si arriva a Marinella. Si arriva a Marinella perché è un imprenditore che si mette al servizio dello sport, così come fece nel 2004 Aurelio De Laurentiis prendendo il Napoli che era fallito. Ovviamente le dimensioni sono completamente diverse, la situazione economico-finanziare è completamente differente, però volevo chiedere a Maurizio quanto il suo essere imprenditore sarà importante per riportare in alto il Circolo Nautico Posilipo. Ciao Francesco, ti ringrazio di tutto. Parlare del Posilipo mi dà una grande emozione anche perché arrivo a fare il Presidente. Io sono stato socio dall'età di quattro anni, mio padre è stato fondatore del Circolo, quindi ho sentito forte il richiamo. Molti soci mi avevano avvicinato, mi hanno chiesto di presentarmi e di espormi in prima fila. L'ho fatto con grande entusiasmo. Guarda, io voglio rilanciare il Circolo. Il Circolo è una casa dello sport, ha sempre aiutato e alimentato sport, tra virgolette, minori, che però hanno dato grandi soddisfazioni. La palla a nuoto quest'anno siamo arrivati quinti al campionato, abbiamo degli equipaggi di canottaggio prossimi a andare alle Olimpiadi, imbarcazioni della vela molto forti, schermitori da sempre che sono arrivati e che hanno dato medaglie alle Olimpiadi. Quindi insomma per me è un grande entusiasmo non voler disperdere tutte queste energie e volerlo rilanciare sempre di più. E' chiaro che abbiamo avuto un'eredità pesante, ma io sono fiducioso, positivo e propositivo, quindi mi auguro in due o tre anni di rimettere a posto questo. Scusa Massimo, sono Maurizio, sono Aurelio. Congratulazioni innanzitutto perché credo che tu sia nato prima del Napoli, quindi diciamo da Marinelle e dalle cravate e da quel tanto di snob che c'è nella cultura del vestire maschile napoletano, che forse è un diktat per tutto il mondo, perfino per gli inglesi, poi magari dopo ci intratterremo e ci divertiremo a parlare un po' del guardarobba del gentiluomo. Grazie. Ma spiegami una cosa, questa tua, cioè il circolo, perché lì tu hai parlato di discipline che stai coltivando, tra le quali anche però l'attività velica. L'attività velica non fa parte del circolo più antico che è il circolo Italia, che è il circolo del remo e della vela? Domando. Nel frattempo saluto e ringrazio Francesco De Luca, Francesco complimenti sempre. Grazie a voi, grazie a voi e continuo a seguire il dipartito. Grazie, grazie. Guarda, tutti i circoli napoletani, dalla Canottieri Napoli al Circolo Italia, al Circolo Savoia, tutti fanno vela, del resto è anche giusto, Napoli è una città che sta sul mare, quindi la vela è uno degli sport preferiti, così come la palla a nuoto, la palla a nuoto, le due regioni importanti della palla a nuoto sono la Liguria e la Campania, chiaramente, quindi insomma io voglio rilanciare tutti questi sport perché devo dire a questi, a Napoli sembra strano e assurdo, è difficile fare sport, ecco, quindi voglio ricreare un pochettino al Circolo un po' la casa dello sport, voglio riavvicinare, voglio fare dei corsi per ragazzi, aiutare i ragazzi che non possono, che hanno difficoltà economiche a potersi avvicinare allo sport, quindi non deve essere solamente il Circolo preso in considerazione dal punto di vista sportivo, ma anche come una casa degli sportivi per la città di Napoli. Ti facciamo una cosa Maurizio, allora, se tu vuoi, io devo dedicare le risorse soprattutto a Napoli, come società calcistica, tant'è che sono un po' contrario alle multidiscipline di una stessa società perché poi si finisce per consumare risorse, tempo e denaro, però visto che lo fai te, io credo che se tu non ti offendi, una mini sponsorizzazione alle tue iniziative la potrà dare, in modo tale che insieme cerchiamo di verificare come rendere la città di Napoli e la Campania proficuamente presente a livello nazionale e ove possibile internazionale. Allora, posso rispondere, Aurelio non ti preoccupare di quello che sto dicendo adesso, ti volevo già bene ma ti voglio ancora più bene da questo momento, non ti preoccupare perché io la penso alla vecchia maniera, però insomma ci tenevo a dirti questo assolutamente, ti ringrazio molto. Prima della pubblicità, Ivan Zazzaroni per te, l'Aurelio. Non faccio a nulla, risparmi per il mercato, sono 500 mila persone, un milione di napoletani che vogliono sapere quanto investirà nel mercato, innanzitutto, e quanti giocatori nuovi porterà. Poi se ne rimane qualcosa lo diamo al quotidico. Risposta dopo la pubblicità, mi permette, ora Presidente, assolutamente questa è la risposta. Dopo i suggerimenti...